Si è chiuso sabato scorso il torneo di padel Weekend League, organizzato presso i campi sportivi del Tartaroghino a Capodorlando. Un evento durato oltre tre mesi, che ha richiamato sportivi e atleti da tutto il comprensorio e che si è chiuso col botto. Siamo contentissimi di essere arrivati alla fase finale di questo torneo, che ci ha visto impegnati per tre mesi, con oltre 100 partecipanti che si sono alternati sui due campi. La fase finale, avete impegnati due tabelloni, un tabellone A per le squadre che sono arrivate nella prima fase e un tabellone B per le squadre che sono arrivate nella terza e nella quarta posizione. Siamo contenti della riuscita di questa manifestazione, della crescita del movimento a Capodorlando. Siamo contenti della riuscita di questo campionato perché ci ha permesso di conoscere i giocatori, i ragazzi di Capodorlando e di intorni che hanno partecipato al campionato, di capire il livello, di prepararli a quella che sarà poi a settembre la nostra squadra, che parteciperà alle competizioni regionali fit.